Allora uno si potrebbe anche domandare per quale motivo un chimico, uno storico dell'arte si mettono insieme a fare queste cose, in realtà non lo sappiamo, vero Alessandro? No è capitato per caso, credo che sia capitato per caso, un po' proprio per caso forse è il motivo di questo incontro, noi proviamo a mettere insieme arte e scienza che per tanto tempo ci sono sembrate così lontane e incapaci di comunicare, eppure la relazione fra questi due mondi è strettissima, lo vedremo fin da subito, ci sono tanti artisti appassionati di scienza che la raccontano con la loro prosa, con le loro storie, con le loro narrazioni, con i loro versi, con i loro dipinti e poi ci sono tanti, tanti scienziati che fanno invece della loro scienza una vera opera d'arte. Io inizio spesso una serie, un ciclo di seminari partendo dalla scienza antica, dalla scienza dei Greci, in particolare quella che sento più vicino a me come chimico, la scienza degli atomisti, atomisti che pensavano a un mondo fatto di piccolissime particelle non ulteriormente scendibili e che appunto a un certo punto viene a contatto con questa scienza, con Lucrezio. Viene a contatto Lucrezio, Lucrezio che secondo me ha veramente rappresentato un po' l'inizio di un percorso scientifico-artistico. Lui ha messo in versi latini la scienza che era stata proposta da Epicuro in Grecia 300 anni prima. E voglio, lo so che lo ripeto forse troppe volte, c'è chi mi ascolta che mi ha già sentito magari si rende conto che sono un po' noioso su questo, ma la parola arte, arsi, il latino, in greco è chiamata tecne e quindi diciamo c'è una tecne, tecnologia, c'è una relazione molto forte. Il legame tra arte e scienza è sicuramente fortissimo nella pittura. Chi di noi non ama visitare, poi diciamo Antonio che è di Perugia, se ci sente, sa quanto amiamo Assisi, quanto amiamo Giotto. Tra l'altro, e lo dirò, poi Alessandro probabilmente mi smentirà, maestro di Giotto è sicuramente Cimabue. Mentre Giotto primeggia nella tecnica dell'affresco, probabilmente di Cimabue non possiamo dire la stessa cosa, perché non lo possiamo chiamare affresco. Giotto che fa? Su un supporto di calce, di sabbia, di polvere di marmo, posa dei pigmenti di origine minerale e di origine organica. Ad esempio in quel tempo si utilizzavano moltissimo il nero di avorio, le lacche, oppure anche dei pigmenti ottenuti artificialmente. E in particolare, lo vedremo poi con Gimabue, posa la biacca su queste opere murali. L'affresco è un procedimento che richiede tantissima abilità tecnica. Bisogna prevedere l'effetto cromatico dell'intonaco. Ci sono degli strati che noi chiamiamo tonaco, tonachino, arriccio e quant'altro. Voi immaginate che il pittore deve dipingere lì senza sapere che colore ci sarà alla fine. Quindi deve assolutamente immaginare quello che sarà l'effetto cromatico dell'intonaco dipinto una volta che si sarà asciugato. E non potrà ritornare sull'intonaco dipinto. E deve affrescarlo, deve dipingere fino a che è fresco. E quindi deve fare quella cosa lì in una giornata. Deve capire esattamente quando è pronto per essere dipinto. Quando non è troppo fresco da ostacolare, ad esempio, lo scorrimento del pennello, piuttosto che tanto tirato da impedire invece una reazione chimica, che è quella che io vi ho scritto lì in basso, la carbonatazione. E se non avviene la carbonatazione, non c'è la possibilità che quei colori, quei pigmenti, quei sali vengano inglobati nell'affresco. Con la carbonatazione, con questa reazione chimica, dall'idrossido di calcio si passa al carbonato e questo rendeva non più necessario per quell'epoca l'utilizzo di leganti e ne garantiva soprattutto una grandissima solidità e tanta stabilità. Giotto, e qui vedete benissimo, poi lo dirà meglio di me, Alessandro, diciamo, suddivide esattamente in giornate il lavoro e basti guardare il cielo, da lì ci accorgiamo appunto delle varie giornate impiegate da Giotto per dipingere una parte di quella fresca. Con Giotto, ed è questo il primo passaggio che ti faccio, Ale, il cielo diventa azzurro. Giotto alza la testa al cielo e verifica che il cielo non è più d'oro come era stato rappresentato fino a poco tempo fa. La domanda che ti pongo in questo scherzo che noi facciamo è perché? Allora, non è che intorno a 1303, quando Giotto sta a Padova, il cielo diventa azzurro tutto da un tratto. Il cielo è sempre stato azzurro. Ma nell'arte del Medioevo il cielo atmosferico era in realtà una novità assoluta. Perché? Perché nel vocalista scritta da San Giovanni Evangelista ci ha scritto che il paradiso ha il cielo d'oro. Cioè, chi va in paradiso trova tutto il cielo d'orato. E quindi le raffigurazioni delle opere d'arte, con il bambino, sante e quant'altro, era sempre la raffigurazione del paradiso. Cioè, questi personaggi non vivevano nel nostro tempo terreno, vivevano nel tempo assoluto, che era quello del paradiso. E quindi il cielo era d'oro. Giotto è il primo che pone la storia dentro una rappresentazione artistica. Fino ad Assisi, quindi fino al 1290 circa, ci sono tanti cicli di storia dei Santi o di storia di Cristo e quant'altro. Ma sono tutti Santi o personaggi che sono vissuti migliaia d'anni prima o centinaia di anni prima. Giotto rappresenta le storie di San Francesco ad Assisi intorno al 1290, 92, 93, che sono 70 anni, scarsi, 65, 66 anni, dopo che San Francesco era morto. Quindi gli Assisiati si ricordavano bene di quel Francesco. I genitori di chi aveva vissuto, che stava vivendo contemporaneamente a Giotto, avevano visto Francesco che camminava per le vie di Santa Maria degli Angeli e di Assisi. Quindi la rappresentazione della storia doveva essere una rappresentazione reale. E questa è la grandiosa novità di Giotto, che cambia proprio l'arte occidentale. Prima cosa c'era? E poi questo verrà ancora di più a Padova, quando lui, oltre a mettere la verità, mette anche il moto degli animi, mette proprio una realizzazione puntuale dell'umanità. Prima c'è stato Cimabue. La novità di Giotto viene in contemporanea con l'attività di Cimabue ad Assisi. Quello è un cantiere che andava veloce. Il Papa Niccolò IV voleva tutto decorare la chiesa velocemente. La chiesa, la Basilica Superiore, non è la chiesa dei Francescani, ma è una chiesa papale, tutt'ora è una basilica papale. Proprietà era il Papa. Niccolò IV girò la Modemashi, che era stato generale d'ordine francescana e quindi chiama i più grandi artisti di quel momento di far lavorare tutti insieme molto velocemente. Un pittore inglese o francese che si chiama Maestro Altremontano, Cimabue, Jacopo Torridi e il Giovane Giotto. Lì cambia tutto. Cimabue, vedete in questi due affreschi, utilizza la pittura non a buon fresco, come aveva fatto Giotto, cioè quello che ci ha spiegato prima Claudio, bensì con il latte di calce e la biacca. Cioè, come si faceva? Si metteva un intonaco un po' più grezzo sul muro, si faceva asciugare e poi sopra si metteva un intonaco non fino come quello che usava Giotto, ma un bel intonaco spesso. Si lasciava un po' asciugare e poi si spingeva l'intonaco come si comprime una spugna, da quell'intonaco ancora un po' bagnato uscivano delle gocce di calce, che si chiama latte di calce, e su quello impastavano il colore e lo mettevano direttamente sull'intonaco. Questo chiaramente era una tecnica che era tipo... E purtroppo Cimabue utilizzava la biacca. E poi a finitura, a finitura quando il latte di calce si era asciugato tutto, si metteva biacca, cioè ossido di piombo, che non è proprio un ossido, vero? È un solfato di piombo. No, va bene, lo diciamo dopo che cosa è. Dopo va bene, ok. Te l'ho detto, è un carbonato basico. È carbonato basico di piombo? Chissà come mai, non me lo ricordo mai. È un computer, dai. C'è ragione, sì. È un carbonato basico di piombo, quindi praticamente è un'ossidazione, in sostanza, del piombo, che viene fuori questo colore molto bianco, che Cimabue l'ha impastato con altri colori e l'ha messo sull'affresco, che voi vedete a sinistra, la crucifissione, che è sul transetto sud della Basilica San Francesco, la Basilica Superiore, e che col correre del tempo, grazie all'umidità che in quella zona è particolarmente intensa, perché si era rotta una finestra, è diventato tutto nero. È diventato il negativo. C'è stata una variazione del colore. Quello a destra... Questo ce lo dice Cernini, no? Poi nel suo libro, lui, questa frase, per il spazio di tempo viene nera, perché in realtà è questo piombo che forma poi dei solfuri a contatto con l'aria e non protetto, diciamo, no? A differenza di quello che poi sarà la biacca utilizzata nei dipinti di Caravaggio, dove invece questo effetto di nero non lo vediamo. Esatto. Invece a destra, Cernini, che regisce già alle novità di un po' di Giotto. Questa è una dotazione controversa che la maestrale della Basilica è inferiore, ma vedete che lo stato di conservazione è nettamente migliore, anche se è un po' ridipinto nell'Ottocento, perché questo è un affresco che è stato molte volte ridipinto per devozione, per aggiornarlo alla devozione, insomma funziona meglio. Allora, Giotto è quello che dipinge la realtà. Infatti, a Padova, a un certo punto, compare la stella cometa. In realtà, il Vangelo non dice da nessuna parte che i magi seguono la stella cometa. I magi seguivano i magi seguivano la stella. Probabilmente sarà stata la stella polare o chissà quale. Seguivano una stella. Ma poi, Claudio, che è successo? Infatti pensavo, non riuscivo a capire se fregavi a me la mia parte, perché questa è la mia parte. Lo so, era l'assist. Delle volte succede. Allora, che succede? Che la fine dell'estate 1301 segna una data importantissima per tutto il mondo scientifico e astronomico. E chiaramente, a questo punto, per Giotto, anche per quello artistico. una cometa spettacolare disegna una lunghissima traccia nel cielo ed ha una chioma sferica particolare che con un globo centrale incandescente è proprio simile a una stella. Quella cometa probabilmente è la cometa di Halley. E il fatto che venga da lui riportata qui significa che probabilmente l'ha osservata e dipinta. Però quello che mi piace raccontare quando parlo poi delle opere dell'opera 18 soprattutto nella cappella di Scrovegni dove ha usato un blu diverso rispetto a quello che si usava all'epoca ma ce lo dirai dopo tu. Ecco, mi piacerebbe proprio farvi capire come lui addirittura progetta per quella cappella lì un percorso di luci un sistema di luci e finestre che esaltano esattamente diciamo la luminosità. Se noi ricostruiamo il cammino di luce all'interno della chiesa notiamo come essa filtrando da una finestra vada a finire proprio sull'affresco ad esempio in questo caso sull'affresco dove c'è la cometa esattamente la mattina del giorno di Natale. Pensate quanto studio disegnare una cometa e sapere che la mattina del giorno di Natale e quella verrà illuminata da un raggio che entrerà da una delle finestre della cappella degli Scrovegni. E immaginate che effetto suggestivo poteva creare questo se consideriamo l'atmosfera mistica che circondava già allora il Natale. E questo blu di sotto è un colore diverso vero Alessandro? La Bislazzoli allora costava un sacco dei soldi questo poi essenzialmente è quello appunto la cappella degli Scrovegni viene fatta da Enrico Scrovegni che serviva per una cappella palatina e quant'altro ma in realtà la verità è che nella controfacciata diciamo dove è giudizio universale c'è Enrico Scrovegni che offre il saccello direttamente a Cristo giudice perché il padre era un usuraio condannato per usura e in quel momento insomma gli usurai sicuramente andavano all'inferno e allora per gestire un po' la questione dell'anima del padre lui spende tutti i soldi possibili per fare questa cappella per riempirla da freschi è per questo che la cappella di Scrovegni è ricchissima tutto l'oro che vedete tutto oro vero tutta foglia d'oro che viene applicata sull'intonaco e il cielo è la la pietra preziosa macinata e poi applicata in questo caso a secco perché è un minerale e quindi non può legarsi con non può fare la carbonatazione essendo un minerale viene applicato sul cielo il punto qual è è che non ossida è che non si rovina mentre la giurrite che spesso viene utilizzato viene utilizzata diventa nera perché non si rovina ecco questa è una bella domanda sì ce lo sapevo ma come sempre meglio se lo dici tu l'azzurrite contiene rame rame esatto e quindi è un rame che poi degrada che invece i lapislazuli non contengono rame in realtà sono una una sorta di silicato di sodio alluminio e quindi un composto che assolutamente non ossida ma infatti c'è infatti l'azzurrite in realtà appunto ossidando il rame in ambienti umidi diventa malachite e quindi vira tutta sul verde in ambienti secchi diventa diventa grafite e vira tutta sul nero se voi andate non vogliono più grafite però va bene va bene eh sì più o meno se voi andate agli uffizi per esempio vedrete per dire uno che ha tante tavole dipinte tutte le madonne con il manto nero cioè quella non è che la vergine è il lutto è che era azzurro tutte erano azzurre che poi insomma è diventata non proprio grafite ma azzurrite ossidate e nero il lapislazuli no ma evidentemente costava un sacco di soldi tra l'altro Giotto vedete anche in questa immagine è straordinario che lui mette l'aureole scorcio e non è mai stato fatto fino a quel momento l'aureole la prima era il nimbo no? che stava dietro la testa della vergine e scusate dei santi in questo caso invece l'aureole girano come fa la maddalena sotto la crocifissione girano girando la testa del santo cioè come un piattello che hanno fisicamente attorno alla testa questa è anche una novità e è il primo che la fa in questo momento 1304 1303 1304 insomma è straordinario allora io nel frattempo ho messo un'altra immagine che tu vedi in cui avevo anche indicato la vedete sì? la crocifissione la crocifissione in cui avevo indicato proprio che cosa sono i lapislazuli che li vedete sono questi silicati di sodio e alluminio è interessante che diciamo poi queste sostanze vengono anche chiamate con il nome di oltremare blu oltremare e non si sa oggi ancora chi ha progettato l'estrazione di questo pigmento azzurro dai detriti di lapislazuli e proposero il nome di oltremare proprio perché gli europei lo importavano da oltremare lo importavano dalla Turchia dall'Armenia da questi luoghi il procedimento è descritto in maniera sapiente proprio da Cennino Cennini e rimane per tantissimo tempo una sorta di articolo di lusso usato raramente spesso stratificato con un leggero velo di lapislazuli sopra una base di azzurrite ho passato abbastanza velocemente perché speravo non so se Antonio è ancora presente speravo che fosse presente ho passato rapidamente a un altro blu e questo è veramente un qualcosa che ci ha fortemente colpito negli ultimi anni questo blu egizio questo invece silicato misto di calcio in rame che viene ripreso probabilmente da un'antica ricetta da parte di Raffaello e Raffaello lo utilizza per dipingere la sua galetea a Villa Farnesina questo blu meraviglioso che fra l'altro ha delle caratteristiche di luminescenza che facevano sì che questo dipinto soprattutto in diciamo in momenti particolarmente bui se illuminato se colpito da raggi potesse addirittura dare dei fenomeni di luminescenza non so se vuoi dire se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti allora questo è veramente Raffaello è straordinario al di là secondo me è il più grande artista proprio della nostra era in assoluto è uno che non sbaglia mai c'è una tenuta qualitativa infinita sempre e Basari però non la vede così cioè Basari che pur scrive una vita meravigliosa di Raffaello dice che lui diventa bravissimo per il molto studio per il molto disegnare mentre Dio aveva dato latte a Michelangelo cioè Michelangelo è nato e imparato in sostanza secondo questa visione credo che appunto Basari non fosse a conoscenza di questa sperimentazione assoluta di Raffaello da scienziato vero e proprio lui è uno che faceva l'architetto e faceva insomma il più grande disegnatore dell'umanità in assoluto e questa è una cosa insomma che si è capito da molto tempo ma soprattutto a questo punto era uno che sperimentava i pigmenti che andava a macinare che faceva quasi il chimico e quindi probabilmente questa sua sperimentazione così alta lo eleva ancora di più non è uno che studiava tanto quello che facevano gli altri e poi insomma diventava bravo è uno proprio che insomma si metteva lì e costruiva da sé soprattutto la Galatea insomma siamo verso la fine della carriera ora la fine della carriera per Raffaello che è morto a 37 anni un po' fa impressione morto giovanissimo lavorato per 18 anni immaginate se fosse vissuto fino a 50 cosa avrebbe potuto fare ecco queste cose lui le fa per Agostino Chigi a Roma era il più il più ricco uomo del mondo in quel momento insomma il Bill Gates del 500 e chiaramente aveva livelli economici incredibili poteva spendere tutti i soldi che poteva e io immagino insomma che allora volevano andare anche a ricercare altro che il Labislazoli voleva ricercare cose ancora più preziose tra l'altro qui effettivamente Raffaello arriva verso lo stile tragico c'è lo stile quello più teatrale possibile dove veramente risponde in maniera diretta a Michelangelo e risponde soprattutto a Michelangelo della volta della Sestina vero Claudio? sì poi l'ho messa immediatamente proprio per per farti capire intanto Michelangelo che cosa fa utilizza ha una maniera di affrescare tutta sua giusto? eh sì allora lì sai che lui non voleva farli affrescanti intanto prende delle soldate che sono diverse rispetto a quelle che avevamo in alta fresca quindi utilizza pozzolano che prende dai campi flegrei tutti i prodotti eruttivi di quella che era stata la quarta fase di attività della Caldera Frevea vengono utilizzati da Michelangelo Michelangelo che fra l'altro diciamo dipinge questa questa cappella Sistina in una maniera particolare voi immaginate a quell'altezza tenere da una parte in mano la traccia e dall'altra il pennello piuttosto che prima diciamo mentre faceva la sinopica quale razza di lavoro doveva fare Michelangelo a quella altezza per dipingere tutto ciò Michelangelo mi dicevi che può essere considerato viene considerato sicuramente la perfezione da Vasari ma Michelangelo rappresenta forse anche l'artista che ha un comportamento completamente diverso rispetto a tutti gli altri è un po' la persona particolare quella che lidica con tutti quella che non riesce a lavorare con altri quella che rispetto magari ad un Raffaello Sanzi alla sua bottega rappresenta un sistema assolutamente diverso ma sì assolutamente praticamente Michelangelo intanto vuole lavorare da solo e poi soprattutto è uno che non compiace mai il committente qui per fare la Cappella Sistina litiga in maniera mortale col Papa con Giulio II anzi sono lettere stupende che si mandano l'un con l'altro armati scappa via va a Bologna il Papa lo va a riprendere eccetera ma lui soprattutto non voleva fare gli affreschi per lui era lui voleva fare lo scultore voleva fare la tomba per il Papa Giulio II la scultura e invece questo ha detto vabbè tanto ancora non sto male quindi la tomba la faremo dopo intanto fammi la Cappella Sistina il problema appunto questo che lui aveva lavorato nella bottega di Ghirlandaio probabilmente la Cappella Tornabuoni stava lì a macinare i colori e la Cappella Tornabuoni è fatta a Firenze in Santa Maria Novella con scusate in Santa Maria del Carmine con la 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 polvere di marmo e quindi con una calce che è diversa rispetto a quella romana quando lui va a Roma tutto sommato era giovane perché aveva trentatré anni insomma non sa fare con la Pozzolana e quindi la prima notte gli vengono fuori tutte fluorescenze saline e lui purtroppo deve smettere il lavoro e allora insomma c'è tutte queste queste lettere che si mandano col Papa che lui proprio non lo voleva fare ma hanno anche una lettera al fratello in cui dice ecco speriamo che sto Papa muoia presto perché io sto qui mi fa male il collo che dipingo con la testa verso l'alto e ho la faccia piena di colore tutta sporca di colore perché dall'alto gli cadeva insomma il suo colore sul viso e fa anche un disegnino insomma lui in piedi a dipingere prima di passare a Caravaggio siccome adesso dovrebbe essere collegato Antonio Antonio se ci senti un tuo saluto un grazie da parte di tutti noi si è stato citato prima sul blu egizio sentite voi si adesso ti sentiamo ho sentito io sto qui da quasi l'inizio quindi ho visto con molto piacere la Galatea e mi ha fatto piacere il blu egizio e tra l'altro giustamente si diceva come mai il blu egizio questo è un ritorno da parte di Raffaello all'antico stiamo cercando di capire perché come sapete bene il blu egizio non era più in auge ma probabilmente la tecnologia in qualche maniera calzica ancora si conosce si continuava a conoscere e tenete presente che il Agostino Chigi il Bill Gates come ha detto Alessandro dell'epoca aveva anche due filiali Alessandro d'Egitto e Alcaido quindi non sarebbe stato difficile per lui ottenere il blu egizio a parte che credo questa è una notizia che ci dai che non sapevamo vedi l'hai tenuta per te era noto ma io lo sono venuto a sapere abbastanza recentemente il che non vuol dire probabilmente però la necessità di usare il blu egizio nasce proprio dall'intorno culturale di Agostino Chigi e dalla volontà di Raffaello di voler ritornare all'antico ricordate che all'epoca era diventato in qualche maniera il sovrintendente di Roma con la cura che doveva avere per le antichità di Roma insomma e naturalmente stiamo come sai perché siete inseriti anche voi abbiamo creato un network che è BluNet a cui partecipano oltre 120 ricercatori per cercare un po' di capire le provenienze e l'origine e la diffusione del blu egizio e poi come hai detto tu Claudio il blu egizio è utilizzato recentemente per le sue alte qualità di luminoscenza è incredibile d'altra parte e questa è una considerazione abbastanza ovvia se una tecnologia ha durato per più di 4.000 anni qualche qualità doveva pure averla pure averla e naturalmente è molto interessante riprendere queste qualità alla luce delle nuove conoscenze è usato in medicina è usato nella pratica florense e così via proprio perché è uno dei più gentili che io grazie e continuo a sentire con molto piacere e mi fa molto piacere sentire Alessandro che saluto con molto affetto grazie grazie continuiamo e arriviamo a quello che è l'autore che io preferisco Michelangelo Merisi o Marisi detto il Caravaggio se penso che tutti i principali artisti vengono chiamati per nome e invece Caravaggio non solo non viene chiamato attraverso il suo nome che poi ritroviamo solamente su un quadro filmato con scritto Michela ma in realtà viene a prendere il nome del paese da cui venivano i suoi genitori Caravaggio genitori che curiosamente si chiamavano Fermo e Lucia lui che che abita in questo in questa Milano probabilmente nasce a Milano in un momento delicato in un momento in cui probabilmente come adesso giravano peste giravano virus e quant'altro Michelangelo Merisi è sicuramente una figura fondamentale nella storia dell'arte e io lo chiederò ad Alessandro perché gli chiederò perché secondo me è proprio questa incredibile intensità della luce dei suoi dipinti era sicuramente in anticipo rispetto a a tutti i tempi utilizzava tecniche che potremmo chiamare fotografiche in fondo non diremmo una qualcosa di di sbagliato se indicassimo in Caravaggio una sorta di precursore o inventone della fotografia circa due secoli prima in pratica il suo studio era una sorta di enorme camera oscura dove aveva fatto un foro in alto da dove poteva entrare la luce e attraverso un sistema di specchi e lenti le immagini venivano riflesse sulla tela lui all'interno di questa camera oscura posizionava modelli che venivano appunto illuminati e alla fine venivano proiettati su questa tela e attraverso queste lenti che forse erano magari convesse piuttosto che lenti particolari e rendevano spesso anche misure e dimensioni sbagliate rispetto rispetto a quello che che erano le corrette misure e è interessante perché le ricerche oggi ci indicano che in alcuni dipinti è presente l'argento in altri è presente il mercurio in altri è presente una sorta di polvere di lucciole tritate era una sorta di queste tele che lui aveva creato di chiamiamole così pellicole impressionabili fotografiche primitive pellicole impressionabili utilizzava quindi delle sostanze che erano sensibili alla luce che gli consentivano di fissare l'immagine sulla tela almeno per un'ora per un'ora e mezza intanto che lui riusciva a dipingere nell'oscurità totale che ci dici di Caravaggio ma allora Caravaggio effettivamente è quello che mette la realtà diciamo nei dipinti in realtà che non è veramente vero ecco perché la realtà è strano nel secco del rinascimento cioè chi voleva imitare il reale erano i uomini del rinascimento Caravaggio viene da quella tradizione ma lui non è che imita il reale lui imita il teatro cioè se c'è la differenza tra rinascimento e barocco è proprio questo che rinascimento è realtà barocco e teatro e lui lo fa al massimo delle sue possibilità è un milanese si vede tra l'altro hanno trovato anche l'atto di battesimo ultimamente proprio fatto a Milano quindi lui è un milanese viene dalla tradizione della pittura milanese del Cinquecento che partiva addirittura Leonardo da Vinci in sostanza che lo aveva inventato proprio in quegli anni l'avvolgimento atmosferico conosce quindi le figure che uscivano dallo sfondo ecco nella grande tradizione lombarda Merisi Michelangelo va a scuola da Simone Peterzano che è un pittore diciamo di seconda fascia un controriformato quindi insomma ha negli occhi però tutto quel mondo quando poi arriva a Roma e si scontra con i due grandi pilastri dell'arte della fine del Cinquecento in Italia che erano Niemale Carracci e Federico Barocci lui insomma per vincere quella sfida si inventa questo mondo teatrale straordinario in cui mette il moto degli amini degli animi in cui mette la passione vera e propria ma lo fa sempre con una caratterizzazione teatrale non è mai più la verità e lo fa con queste luci come se fossero occhi di bue e questa è la grandezza utilizzando poi anche tecnicamente delle novità quelle che ha detto Claudio ma soprattutto questi bianchi abbacinanti straordinari che vengono fuori che proprio sembrano aggredire lo spettatore perché? Intanto perché i dipinti caravaggeschi quelli suoi anche insomma dei suoi chiamiamoli seguaci purtroppo stanno tutti con uno stato di conservazione non ottimale utilizzando delle terre molto scure col corso del tempo si scuriscono ancora di più e vengono spesso mangiate dai restauri dai rinteli e quant'altro il bianco che è bianca e che invece è resistentissimo rimane forte e quindi si vede insomma la maddalena qui la vediamo siamo proprio colpiti da queste maniche straordinarie che sembrano tessute in quel momento c'è una frase di Roberto Longhi bellissima non per Caravaggio ma per Horacio Gentileschi che comunque insomma è uno della sua della sua scuola e dice Horacio Gentileschi è il più il più granzato del seicento italiano perché proprio questo utilizzo delle tecniche anche della biacca impastate con altri colori davano il senso delle stoffe in questo modo strepitoso ed è proprio una volontà teatrale che mette Caravaggio qui c'è interessante nel dipinto ma probabilmente lo sai che in realtà questa bretellina è stata aggiunta dopo no? sì questa bretellina non era in questa posizione oggi le tecniche diagnostiche ci consentono di vedere dove era prima la bretellina ma questa spalla era troppo nuda e quindi in quel momento perché in realtà Caravaggio e questo è estremamente importante Caravaggio può essere immaginato il pittore della controriforma cioè c'è stato il concilio di Trento no? sì è accaduto qualcosa di estremamente importante ed è chiaro che le cose che stanno accadendo abbiamo lo hai detto tu un passaggio fondamentale utilizza diciamo utilizza persone della vita quotidiana per e le rappresentano penso alla Madonna di Loreto non alla Madonna di Loreto una Madonna che ha sicuramente qualche aspetto di religiosità importante se ricordo nel dipinto i piedi della Madonna ci dicono che è ancora in volo non sono appoggiati per terra non ho appoggiati in maniera ma d'altra parte è una persona estremamente terrena oppure diciamo la Madonna incinta sono degli aspetti estremamente importanti qui in questo dipinto che credo oggi sia uno tra i più visti al mondo perché basti pensare alle file a San Luigi dei Francesi c'è proprio l'evidenza purtroppo abbiamo tagliato forse l'immagine e non si vede da dove la luce entra che non entra da quella finestra ma fa proprio quell'occhio di bue che tu dici quell'occhio di bue che forse rappresenta anche l'occhio di Dio in realtà è la divinità che che illumina che illumina Matteo un Matteo di cui fra l'altro non sappiamo neanche chi sia Matteo nel dipinto stesso ma è incredibile si vede esattamente quel braccio e quella mano che sono stati sicuramente deformati dagli specchi che lui ha utilizzato per dipingere e c'è un altro aspetto che a me ha colpito ma penso che non abbia colpito solo me credo che sia stato visto anche da altri a me assomiglia quella quella mano tantissimo alla mano di Dio nel diciamo nel Michelangelo della Cappella Sistina non so se sbaglio Ale assolutamente anzi per esempio anche il Bacchino Malato di Caravaggio il modello è uno dei nudi della Cappella Sistina è chiaro che quello era una palestra per tutti cioè questi andavano e andavano a vedere Michelangelo a Roma e disegnavano continuamente tutto quello che aveva fatto Michelangelo che aveva fatto Raffaello allora l'imitazione era un canone estetico ancora per gli uomini del 600 cioè dovevano imitare gli antichi Birnini immaginate che imitava le sculture antiche ma per loro gli antichi chiamati anche antichi moderni erano anche Peugino erano anche Leonardo Michelangelo e Raffaello quindi per loro era una necessità accademica di andare lì studiare copiare disegnare quello che avevano fatto gli altri allora questa mano è chiaro che è la creazione di Adamo di Michelangelo in Cappella Sistina Bacchino Malato discende proprio precisamente uno degli ignudi della Cappella Sistina quindi insomma Caravaggio sì è vero che è un innovatore straordinario forse uno dei più rivoluzionari pittori della storia ma è uno che però dentro al suo tempo è uno che vive dentro quella cultura e si vede anche da queste cose credo che sia stato anche permeato di una religiosità particolare perché in realtà lui anche quando andrà a Malta vorrà assolutamente diventare e non sarà semplicemente per salvare la propria vita ma vorrà diventare dimostra di essere veramente un fedele una persona profondamente cattolica cristiana e ci sono delle immagini diciamo di di prendi tridentini questa è un'opera di Caravaggio che a me ha colpito particolarmente perché è una sorta di opera in movimento non so se è un po' simile a quello che abbiamo visto prima per Giotto se noi andiamo in questo caso a porre e a guardare l'opera esattamente nella posizione in cui nella sua collocazione originaria che era San Giovanni la Valletta questa è un'opera del periodo Maltese quando lui teoricamente fugge da Roma perché è accusato dell'omicidio di Tomassoni di cui di Ranuccio Tomassoni di cui in realtà oggi noi non sappiamo neanche se se si è vero se sia stato veramente ucciso oppure semplicemente ammazzato cioè colpito ammazzate dallo stesso dallo stesso Caravaggio però questo dipinto del periodo Maltese ecco posto nella sua chiesa si illuminano i personaggi di ora in ora a seconda del passaggio della luce nella chiesa stessa e quindi è una sorta di opera in movimento purtroppo io come al solito sbaglio e ho posto questa scritta a coprire un po' l'immagine del Cristo dove c'è la sua la famosa firma di Michelangelo Michelangelo Merisi chiaramente ma soprattutto mi piaceva far vedere che Michelangelo Merisi rappresenta il sangue ancora secondo una concezione comunque antica gli schizzi di sangue che lui studia sempre con grande attenzione come studia con grande attenzione la muscolatura delle persone pensate alle rughe della vecchia ingiuditta Euloferne e quant'altro però ci si accorge in questo caso soprattutto che gli schizzi di sangue perseguono delle traiettorie chiamiamole così lineari e invece ci accorgeremo poi dopo con Artemisia Gentileschi che le cose non stanno esattamente così l'ultimo dipinto di Caravaggio di cui vorremmo parlare oggi è in realtà questa natività che viene trafugata dalla mafia dalla mafia esattamente nel 1969 credo 69 nel 1969 dicono che questo dipinto stesse praticamente a casa di una delle più importanti famiglie mafiose proprio per mostrare il grande potere che loro avevano oggi purtroppo questo dipinto non esiste più o meglio non sappiamo dove sia quello che è possibile vedere a Palermo e invece una sua riproduzione fatta con tecnologie digitali una riproduzione diciamo che è stata questa possibile grazie ad una foto antica dello stesso dipinto la natività con Santi Lorenzo Francesco non so se vuoi aggiungere qualcosa di Sciascia o di chi vuoi tu su questo dipinto ormai ne sai più di me allora sì questo insomma è uno dei grandi simboli anche della tutela in Italia cioè la mafia che riesce ad entrare in una chiesa e prendere un quadro allora Ronaldo Sciascia nel 69 scrisse un articolo un trafiletto velocissimo su il Corriere della Sera che adesso vi leggerò perché veramente ci vogliono due minuti e scrive sono sempre stato dell'opinione che l'Italia cioè lo Stato gli enti locali ogni altra pubblica amministrazione dovrebbe rinunciare totalmente definitivamente alla custodia e manutenzione delle opere e anche dei manoscritti e dei libri rari non potendoci permettere il lusso di regalare quadri manoscritti e libri a quei paesi a quelle istituzioni che sanno ben conservarli e proteggerli si potrebbero fare delle grandi asteri e certamente frutterebbero quanto basta per portare tanta gente dalle baracche alle case e per risolvere il problema idrico di tanti paesi meridionali e l'effetto sarebbe così doppiamente proficuo cioè risolveremo problemi altrimenti insolubili a quanto pare e ci assicureremo della sopravvivenza non importa in quale altro paese del mondo di opere destinate in Italia al trafogamento o alla distruzione ma questa soluzione che è tanto sensata e ovvia da parere paradossale si oppone naturalmente all'orgoglio nazionale che è il sentimento del tutto alieno dalle cose concrete che si appaga di parole e svanisce l'Italia è il paese dell'arte ma le opere d'arte vadano in malora ancora una volta dobbiamo amalamente constatare che questo non è un paese civile non lo è nelle baracche delle terremotate degli immigrati a Montevago come nella periferia torinese non lo è nella conservazione custodia delle opere d'arte delle testimonianze storiche sembra che non ci sia relazione tra un caravaggio facilmente rubato a Palermo e una famiglia costretta a vivere insieme ai triquadri in baracca e invece c'è precisa e assoluta se il baraccato costituisse effettiva preoccupazione uguale preoccupazione costituirebbe il caravaggio di San Lorenzo la zisa sabbioneta il disegno di Leonardo c'è un'interdipendenza un legame d'ordine del solo o vero ordine che un paese civile deve tenere e questo del 69 mi sembra davvero una cosa di una attualità quasi sconcertante Claudio sì Claudio dimmi Antonio posso aggiungere a proposito del caravaggio una cosa molto bella io sono per le contaminazioni tra arte contemporanea e arte antica e attualmente là dove manca il caravaggio c'è uno splendido disegno di Emilio Isgro che è l'artista nota per la cancellatura e credo che dimostrazione più straziante della mancanza non sia vedere quel disegno cancellato di Emilio Isgro è veramente molto commovente e molto rappresentativo dello stato dell'arte in Italia scusate Antonio no no scherzi quello che c'è io torno a quello che avevo detto prima proprio per mostrare questa incredibile relazione fra scienza e arte questo è qualcosa in cui io personalmente mi sono imbattuto solo di recente perché sono venuto a conoscenza del fatto che in realtà Galileo nel 1613 entra a far parte dell'Accademia Forentina delle Arti del Disegno il nostro Galileo Galilei ed è incredibile perché oltre ad incontrare Orazio Gentileschi oltre ad incontrare una serie di artisti rapporti diretti con Pasignano con Allori con Chimenti incontra Artemisia e Artemisia rispetto a Caravaggio è la dimostrazione proprio del del progresso che avanza Galileo ci dice come si muove un proiettile qual è il moto di un proiettile e il moto non è più lineare il moto è a curvo guardate gli schizzi di sangue di Artemisia in questo meraviglioso dipinto notate come seguono esattamente un percorso una curvatura tipica quella tipica del moto di un proiettile e Artemisia sicuramente ha letto il Sidero Snuncius Artemisia ha diciamo incontrato Galileo più volte e ha preso da Galileo tante tante informazioni che poi riporterà nei suoi nei suoi dipinti a te Ale si tra l'altro nel 13 Orazio era a Fabriano lui tra le 16 e il 19 ha lavorato nelle marche a Fabriano e in Duomo ci sono degli affreschi chi non l'ha mai visti insomma andasse a vederli e allora è subito dopo il 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 processo del 12 appunto che subisce Artemisia che era stata violentata da Agostino Tassi e che in realtà insomma quel processo viene un po' romanzato perché chissà se effettivamente lei è stata violentata oppure si scenano tutto questo per coprire l'amore verso un uomo più maturo insomma ci sono scritti tanti libri su queste su questa questione al di là del fatto in sé Artemisia probabilmente la più caravaggesca dei pittori del 600 lei insieme a Bartomeo Manfredi ma il giovane Valentane Bologna molto di più che il padre Orazio capiscono proprio questa verità cruda caravaggesca e lei chiaramente anche soprattutto per quello che aveva passato lo mette con una violenza con una violenza espressiva che è straordinaria e si vede proprio in questo dipinto di Giuditta Eoloferne che adesso è mostra a Palazzo Barberini a Roma è proprio una mostra sulle due versioni quelle di Caravaggio e quelle di Artemisia di questo soggetto e qui capite la sensibilità pittorica di Artemisia che effettivamente studia con il padre e si vede quando dicevo il più bel sarto della pittura del Seicento vedete queste stoffe straordinarie che però hanno queste forme che sono forse anche un po' più larghe un po' più monumentali perché già in quel momento lei si accorge di Rubens che era stato la Valle di Cella a Roma e che guarda effettivamente anche la pittura già un po' sfiorita ma sicuramente straordinaria ancora Federico Barocci soprattutto per queste per i volti così crepitanti anche nei capelli e quant'altro ecco è un alter ego vero a Caravaggio è in qualche modo differente e complementare perché appunto mette questa verità più cruda questa anche scienza del sangue bellissimo bellissimo insomma crudele ma bellissimo quello che proprio bagna il cuscino che cade di ripoli un sangue freschissimo e per questo ancora più forte insomma che fa di questo dipinto uno dei grandi capolavori del Seicento in Europa siccome Galileo diciamo è per tutti noi un grande un grande scienziato un grande fisico ad un certo punto proprio sembrava quasi che ascoltasse Antonio mi sono domandato quanto anche nei tempi moderni la scienza abbia contaminato i nostri pittori ed è interessante perché ad esempio se uno va a vedere De Chirico o Carrà De Chirico vinse a Ferrara esattamente nel periodo della prima guerra mondiale e in quel periodo conosce Giuseppe Bongiovanni che era direttore del gabinetto di fisica dell'università e meteorologo e proprio grazie a Giuseppe Bongiovanni De Chirico viene a contatto con con il mondo della fisica ed è bellissimo vedere come nel sogno di 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 strumenti possono essere delle dei termometri dei barometri oppure disegni faccia disegni di fisica o quant'altro oppure lo stesso Carrà che in una qualche maniera disegna squadri compassi righe e quant'altro soprattutto diciamo c'è c'è una cosa che mi è piaciuta vedendo questi dipinti di Carrà e di De Chirico e il loro legato con la scena c'è una meravigliosa frase di De Chirico che secondo me va ricordata la frase di De Chirico è meravigliosa perché dice si può concludere che ogni cosa abbia due aspetti uno è quello corrente e che vedono gli uomini il metafisico la prego di chiudere il microfono la signora profeti credo che dovrebbe chiudere il microfono la stiamo ascoltando l'aspetto l'aspetto metafisico che non possono diciamo vedere tutti ma che possono vedere solamente alcuni individui in alcuni momenti rari e c'è questo parallelismo che De Chirico fa come alcune cose non riescono a vederle tutte e altri invece le vedono tutti noi abbiamo delle cose che vengono diciamo viste e illuminate dal sole dai raggi solari e che appaiono sotto la potenza dei raggi solari e altre cose che invece non possono essere viste alla luce del sole ma che richiedono esclusivamente luci artificiali come raggi X io non so se su Carrao o su De Chirico puoi aggiungere qualcosa qualcosa si può dire i due chiaramente stanno vicini quasi insieme collaboravano qualche volta insomma c'erano anche delle lettere perché insomma il momento in Italia era quello di una grande collaborazione tra artisti però Carra è interessante perché chiaramente è un po' meno metafisico rispetto a De Chirico ma è quello che scopre Giotto cioè è incredibile che la prima monografia di Giotto l'ha scritta Carlo Verrà in sostanza puntate sul Corriere della Sera poi sono pubblicate tutte insieme e De Chirico invece che prende proprio questa parte scientifica lui sicuramente aveva letto linea punto superficie di Kandinsky non c'è dubbio in cui dice che doveva Kandinsky dice io voglio delle regole scientifiche anche per l'arte come Wagner aveva fatto per la musica e poi insomma magari se ne parla così io voglio che la scienza entri nell'arte e quando esce quel libro De Chirico la legge sicuramente poi va a Parigi fa il manifesto della lettura metafisica a Parigi insieme a Matisse nel 25 politica con tutti e torna e ha un momento diciamo di ritorno al classicismo con dipinti stupendi che stanno alla Gallinazione dell'Arte Moderna poi c'è uno anche bellissimo al Pushkin però effettivamente quella cultura cioè perché letica con i francesi essenzialmente perché la cultura così scientifica effettivamente era di livello europeo per De Chirico è strettamente legata al rinascimento italiano è strettamente legata alle costruzioni dell'identità italiana che era quella appunto del 4 del 500 quelle architetture che lui costruisce in realtà le convenzioni sono quelle della prospettiva lineare centrica allora è lì che prende la scienza e che prende l'imitazione quindi c'è questo grande cortocircuito tra l'antico e moderno in quegli anni che veramente è entusiasmante eccolo qua siamo a Van Gogh siamo a Van Gogh beh Van Gogh è qualcosa di veramente particolare c'è una bellissima frase che lui dice al fratello quando a un certo punto vanno ad Arles e decidono di abitare lì lui vede una casa gialla e si innamora di quel giallo lui vede giallo ovunque il giallo per Van Gogh è vita il giallo è gioia di esistere il giallo è felicità e lui ricerca la felicità la ricerca continuamente è un uomo martoriato tormentato che che non sa dove trovare la realtà la verità se nella sole se se nella religione lo fa continuamente in maniera ossessiva direi quasi stancabile il giallo che lui utilizza è un giallo cromo è un cromato di pion e purtroppo non abbiamo parlato prima dei colori naturali piuttosto che dei colori artificiali del giallo lino piuttosto che dell'orpimento piuttosto che dei colori rossi ma il giallo che lui utilizza è un giallo che ha determinate caratteristiche che lui vuole colori completamente anche lo stesso corpo tant'è vero che lo mangia è un colore che lo ossessiona e lui non si ciba solo metaforicamente ma se ne ciba veramente e poiché ingerisce il colore probabilmente io adesso non so se è una caratteristica di tutti gli artisti molti artisti avevano diciamo erano inclini alla pazzia lui stesso impazzisce ma non so se esclusivamente per il colore comunque morirà anche lui giovane prima non abbiamo detto anche di Caravaggio che rappresenta nei suoi dipinti la sua malattia spesso tante volte come in Bacchino malato e morirà giovane ma ecco intanto c'è una cosa che mi ha fatto pensare in fondo in fondo il suo nutrirsi di giallo cromo non è tanto diverso da quelle dipendenze che oggi noi abbiamo quelle che ci spingono all'utilizzo di droga piuttosto che di alcol e il suo comportamento da questo punto è purtroppo simile a quello di tante persone oggi l'altra cosa che invece mi fa pensare il cromato di piombo il giallo cromo è che purtroppo questi girasoli sembra che ne abbia dipinti sette ne abbiamo cinque se non sbaglio vero Alessandro sì ce ne stanno cinque in vari musei e collezioni sembra che questi girasoli non hanno tutti la stessa vita nel senso che purtroppo alcuni sono stati esposti al sole o all'intemperio in maniera diversa e purtroppo il cromato di piombo è una sostanza che degrada e che subisce diciamo se vogliamo un danno fotochimico la luce impattando fa sì che questi qua diventino da gialli pian piano neri ed è per questo che tutto sommato oggi c'è anche un grandissimo lavoro da parte della chimica della scienza in generale per preservare questi capolavori quando qualche anno fa qualcuno ci disse che non potevamo fotografare nei musei con flash lo abbiamo immaginato come se fosse qualcosa di esclusivamente proibizionistico in realtà era esclusivamente per salvaguardare alcuni dei colori che purtroppo sono sono fotosensibili e il giallo dei girasoli di Van Gogh credo che che non abbia che non abbia confronti che non abbia paragone no anche perché Van Gogh in realtà insomma è uno dei più grandi artisti del novecento in assoluto non è un impressionista questo vorrei già dire è un post impressionista insomma è uno che ci mette una carica emotiva ancora più forte cioè l'impressionismo che essenzialmente è quello di Renoir di Degas quelli che insomma sono i pittori della vita moderna che raccontavano la vita in quel caso a Parigi con un distacco no insomma la bevetrice del senso di Degas e le ballerine sono proprio forti perché c'è questo distacco malinconico la malinconia di Van Gogh è una malinconia personale interna e profonda è assolutamente una cosa che lui voleva e metteva nei dipinti anzi probabilmente dipingeva proprio per esorcizzare questa questa sua malessere questa sua malinconia allora perché fa i girasoli i girasoli sono un omaggio a Gauguin Gauguin era partito per un viaggio lui era vivevano insieme a Darla era innamoratissimo di Gauguin e essenzialmente raccoglieva girasoli perché era la fiore che piaceva all'amico e lo metteva nel vaso e rappresentava e questi girasoli li ritraeva proprio come se fossero omaggi al suo amore che era lontano che era Gauguin un amore che tra l'altro non era corrisposto ma va bene insomma e quindi c'è proprio questa idea straordinaria che il fiore diventa il fiore diventa sole e che solo diventa amore essenzialmente è proprio è lui che si autoritrae come girasole infatti no anche il suo viso lo fa giallo i paesaggi diventano tutti gialli è proprio è il colore che diventa esso stesso egli stesso veramente è una cosa straordinaria c'è il problema del restauro il problema del restauro della verte contemporanea questo veramente è uno dei grandi problemi della nostra generazione insomma Van Gogh questi dipinti hanno poco più di cento anni e a questo punto che cosa facciamo? cambiamo il colore cambiamo il giallo fermiamo questa sua questa sua degradazione oppure il colore l'originalità del dipinto va salvaguardata e allora dobbiamo lasciare che lui evolva come come può credo che questa sia la soluzione migliore è l'essenza stessa di Van Gogh racconto sempre questa cosa a un certo punto c'è un'opera d'arte che si chiama La poetica del tarlo c'era uno anche ammacerato Umberto Peschi insomma che aveva fatto anche delle prove e avevano preso un pezzo di legno ci avevano messo dei tarli e questi tarli lavorando sul legno cambiavano l'opera diciamo in firi allora a un certo punto bisogna restaurare bisognerà se restaurare quest'opera cioè che cosa facciamo? ci mettiamo dei tarli nuovi se quelli muoiono oppure se quelli non muoiono lasciamo che l'opera si sfaldi tutta e il legno non esista più e quindi non esista più l'opera d'arte oppure Demenius che fa lo squalo sotto formalina quello squalo sotto formalina ormai c'ha quasi più di vent'anni si sta un po' rovinando che cosa facciamo? cambiamo la formalina o cambiamo lo squalo? oppure lo facciamo andare così come va avanti? ecco queste sono cose diciamo un po' estreme su opere degli anni 60 e anche degli anni 90 ma è lo stesso problema che c'è Van Gogh insomma è lo stesso problema che c'è Leonardo Da Vinci dell'ultima scena purtroppo come tu sai molte delle sostanze che venivano utilizzate da questi artisti erano tossiche come appunto il cromato di biondo certo come la biacca e oggi non è possibile intervenire su queste opere e un'altra persona che sicuramente diciamo c'è Antonio che forse vuole dire qualcosa sai giusto? Antonio vuoi dire qualcosa? accendi il microfono comunque intanto vado avanti sulla questione di Leonardo perché Leonardo Da Vinci sicuramente il genio più versatile del nostro rinascimento qui combattiamo tutte le volte quando infatti forse si è vista la faccia lo scienziato artista è lui però ecco una delle caratteristiche di Leonardo ad esempio è che la tecnica dell'affresco tradizionale a me non mi va bene non è io non è abbastanza buona per me perché io devo fare tutto in maniera precisa con calma lento 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 e quindi che fa Leonardo? Adotta una tecnica sperimentale che poi ha gli stessi effetti dei girasoli di Van Gogh cioè causa un deterioramento disastroso della pittura e rende purtroppo vano anche ogni tentativo di prendere l'affresco portarlo strapparlo via e portarlo da un'altra parte Leonardo non ama assolutamente la tecnica dell'affresco devo stendere i colori prima che l'intorno asciughi è incompatibile con quello che io sto facendo che spesso è un continuo ripensamento se noi andiamo a vedere le opere di Leonardo quanti ripensamenti identifichiamo attraverso le nuove tecnologie diagnostiche era la sua idea era la sua idea di pittura era la sua idea di pittura che era quella perché anche quando disegnava lui diceva se io faccio un segno su un foglio il mio occhio vedrà soltanto quel segno ma se io quel segno lo faccio mischiando tante cose unendo tanti disegni tutti insieme la mia fantasia prenderà la soluzione migliore e quindi ecco i pentimenti allora la lui congeniale non era né la tempera né l'affresco era l'olio era l'olio era la pittura olio che era congeniale comunque che fa per quello che riguarda l'affresco sceglie di dipingere su un muro esattamente come dipingere su tavole eh sì con la pittura olio e però in pratica che fa stende un indonaco un uvido di sinopia ci stende sopra le linee principali con la sinopia e poi lavora con una tecnica che è esattamente quella della pittura su tavola però non regge non regge diciamo la miscela è composta principalmente da una mistura di carbonato di calcio di magnesio ci mette un legante proteico un sottile strato di pH spesso poi sopra ci mette sopra dell'olio no del bitume vero e proprio per proteggerlo ma poi quel bitume piano piano avrà anche un altro effetto sul dipinto stesso e c'è poco da fare e quindi in realtà Leonardo è diciamo è più noto per le madonne come la madonna del garofano l'ho messa qui per te grazie perché c'è molto da dire questo ambiente domestico buio questo passaggio montuoso questo garofano di cui adesso tu tu ci spiegherai questa illuminazione della stanza questo parapetto queste trasparenze no che si allora è un confronto anche con quella che è l'arte fiammica che sta che sta venendo fuori no e poi io ho trovato in questa in questa madonna un po' quello che che lui che lui scrive no perché quando un colore trasparente sopra un altro colore variato da quello si compone un colore misto quando si vede nel fumo cioè lui immagina pensate l'incredibile genialità di quest'artista che dice quando io guardo il fumo un conto è se vede il fumo diciamo in una giornata di sole con dietro un cielo azzurro un conto è se ci sono delle nuvole un conto se le ombre sono scese e quant'altro io devo rappresentare il fumo in questa maniera cioè devo rappresentare il fumo le mie colorazioni devono essere esattamente come il fumo allora Leonardo oggettivamente in questa in questa madonna mette proprio tutta la sua arte intanto c'è l'avvolgimento atmosferico c'è proprio quest'idea delle figure che viene fuori all'oscuro dietro il parapetto che blocca l'occhio che va troppo verso il fondo serve proprio per far aggredire la madonna allo spettatore cioè come se fosse una dolce prospettiva cioè il punto di fuga non è interno al dipinto ma esterno e sugli occhi di chi riguarda è una cosa che lui chiaramente la gioconda diciamo è il dipinto più famoso ma che usa questa tecnica ma qui effettivamente questa che qualche anno prima la sperimenta già qui il garofano è stupendo che il bambino va a prendere il garofano perché il garofano perché c'è scritto nel cantico dei cantici i fiori rossi erano l'attributo alla bellezza della vergine cioè il cantico dei cantici la vergine ancora non c'era stata perché è il antico testamento però c'è proprio la prefigurazione di quello che verrà e verrà la regina eccetera eccetera che sarà bellissima perché ha la bianca come pedra di un giglio e la bocca rossa come pedra di una rosa e quindi i fiori rossi sono la bellezza della vergine e la purezza e quindi è quel bambino che va a carezzarla come proprio attributo iconografico alla madonna e poi la pittura d'olio sapete che soprattutto è un allevo di verrocchio si capisce anche insomma per come fa questi panneggi quelli sono panneggi soprattutto nella parte bassa che sono verrocchieschi con queste sottiscotto squadri con le ombre che vengono fuori ma verrocchio faceva dei panneggi ancora a tempera e quindi insomma quasi scultore quasi di terracotta vengono fuori qui vedete che le stoffe di Leonardo sono tutte come se fossero di seta e di raso con queste illuminazioni perché la tecnica olio permette di fare le velature contrapposte l'una sull'altra non è come la tempera che è coprente ma essendo traslucida ed è un colore trasparente come dice lui permette di fare questa diciamo queste queste illuminazioni strepitose sia della pelle che delle stoffe il battesimo di San Salvi che è di verrocchio e di Leonardo messo insieme è stato restato ultimamente nell'obificio delle pietre dure e hanno capito chi è l'uno chi è l'altro perché nello stesso dipinto verrocchio dipinge a tempera e Leonardo dipinge a olio e la pittura a olio poi ha questi effetti straordinari insomma che noi vediamo e a Firenze era stato portato dai pittori fiamminghi c'era già arrivata per carità si ripingeva olio già in antichità ma la grande moda dei pittori fiamminghi con l'arrivo di Lucia van der Waien a Firenze addirittura l'andaglio lo copiava insomma porta questa grandissima moda e Leonardo è il primo che lo utilizza in questa tecnica straordinaria c'è questa immagine che conoscete l'uomo vitruviano che secondo me rappresenta fortissimamente il rapporto fra arte e scienza fra filosofia e arte in pratica lui dipinge l'uomo come se fosse un microcosmo e in base a diciamo a questa sua idea è come se l'uomo fosse qualcosa che riflette un ordine superiore un'entità che che porta dentro di sé tutti gli elementi che compongono il mondo interno e non è un caso che lui rappresenti l'uomo vitruviano all'interno del cerchio e del quadrato il cerchio e il quadrato che rendono secondo me Leonardo sicuramente l'artista scienziato il più complesso devono essere letti in una chiave assolutamente simbolica proprio sulla base di quelle che che erano le letture e riletture cristiane della teoria del microcosmo il cerchio allusione chiara alla sfera divina e il quadrato che rappresenta il mondo terreno non so se ma dopo questo dopo questo commento è assolutamente vero però si vede ti lascio la parola al tuo al tuo tutto come come spesso lo definiamo perché Raffaello è tutto Raffaello ha tutte le doti ne hai parlato già prima no mi piace pensare mi sta per scaricare il computer e poi passerò al telefono e quindi intanto mi piace pensare mi piace pensare Raffaello ti ricordi quante volte mi hai detto no il fatto che all'inizio qualcuno diceva alla maniera di no gli artisti che inaugurano la seconda maniera che che riscoprono e utilizzano nelle nelle rappresentazioni artistiche proprio quella prospettiva che era fondata su su basi assolutamente rigorosamente geometriche ma è assolutamente così cioè Raffaello in realtà noi lo conosciamo come un grande pittore ma lui era soprattutto un architetto cioè un disegnatore quando dipinge lo spostalizio della Vergine il il tempio che gli addietro in realtà lo proietta in prospettiva sulla base di quella grandissima piazza cioè è uno che effettivamente pone la matematica a servizio dell'arte come nessun altro fino a quel momento aveva fatto è vero che probabilmente lui si era formato appunto ad Urbino dove Urbino alla matematica Capacioli immaginiamo e anche Francesca prima erano proprio facevano da padrone anche se lui nasce nell'83 Piero ha già andato via ma insomma la tradizione era proprio quella e poi soprattutto Raffaello va a dove va va a prendere il meglio di quegli artisti cioè sta a Perugia con Perugino prende il meglio e lo porta a un livello più alto quando va a Firenze nel 1504 vede Leonardo e quel modo di segnare che poi ho descritto prima lo prende e lo eleva e mette la matematica insieme alla grande disegno di Leonardo da Vinci e questo si vede nel 1508 quando a Roma dipinge poi la scuola di Atene dove effettivamente mette in rimanente il trascendente insieme perché c'è Platone e Aristotele al centro ma è nient'altro è che Bramante e Leonardo da Vinci che sta lì e collaborano che sono un po' i pilastri su cui lui si fonda per cui l'architettura che voi vedete dietro nient'altro è è stato studiato che la Basilica di San Pietro il che esisteva in quel momento abbattuta da Bramante e che la stava ricostruendo con i pilastri centrali che lui insomma ripropone in questo affresco è la nuova Basilica di San Pietro perché c'è il cielo? perché non era finita la finiranno dopo quasi cento anni e quindi ecco è lui che mette questa architettura matematica straordinaria che però non è più la matematica di Piero che è immobile che è quasi metafisica come quella appunto di De Chirico ma anzi è una matematica viva teatrale e quando si dice la maniera il manierismo è proprio questo cioè nasce tutto dalla scuola di Atene dalla stanza d'incendio di Borgo cioè è proprio lui che si inventa questo nuovo modo di vedere il mondo che è anche un po' il nostro che noi vi vediamo con i suoi occhi lui imitava il reale allora noi davanti a un bel quadro che diciamo guarda che bello sembra vero e davanti a un bel paesaggio che diciamo guarda che bello sembra un quadro cioè ce l'hanno insegnato loro cioè gli uomini del rinascimento e Raffaello prima di tutto è per questo che secondo me veramente è il tutto Raffaello è più grande del suo tempo e forse più grande del nostro tempo proprio per questo motivo posso aggiungere due cose e poi chiede Antonio che dice comunque due cose importanti questo quadro è assolutamente un inno alla conoscenza e quindi fra l'altro diciamo magari lo sanno tutti comunque lo possiamo ripetere Aristotele Platone chi sono Platone ha il volto di Leonardo Eraglito ha il volto di Michelangelo Euclide ha il volto di Bramante da una parte vedete è rappresentato lo stesso Raffaello e non è un caso che Raffaello è mortale a se stesso perché intanto questo quadro ci dice che lui conosce esattamente tutti quelli che sono i grandi i grandi della storia i grandi della cultura i grandi delle scienze i grandi del passato riconosce assolutamente il ruolo che ha la geometria no? e soprattutto la geometria che viene utilizzata per definire la grandezza del passato ma sa anche questo è il significato della sua collocazione lì scusate lo stavo rappresentando con il mouse cercavo di colpire la freccetta la faccina c'è la sua faccina sa anche che lui è parte di questa comunità lui sa di essere un grande della comunità è la sua oggettivazione quella lui lo fa apposta al Papa gli dice guarda che io sono il più grande di tutti d'altronde Giulio II aveva mandato via tutti gli artisti che stavano lavorando in quella sala tutti a casa cioè il giovane Raffaello mi basta lui e c'era Lorenzo Lotto Sodoma Perugino insomma c'erano i grandi di quel momento Antonio scusami no no a te volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda Raffaello come imprenditore e capo bottega noi abbiamo studiato nella Villa Farnesina la loggia di amore psiche che si attribuisce alla bottega di Raffaello ma c'è la mano presente di Raffaello pensate che ci sono 305 giornate e non c'è nemmeno un ripensamento ci sono due piccoli cambiamenti il che significa che quella loggia era stata prima la Raffaello progettata e poi eseguita in parte dai suoi allievi ma la mano è così presente altra cosa era imprenditore lavorava al Vaticano naturalmente utilizzava i cartoni come facevano tutti ma mentre spesso i cartoni di materiale così fragile venivano buttati via noi abbiamo trovato nella loggia di amore psiche l'utilizzo degli stessi cartoni che Raffaello più di 5 anni prima aveva usato nel Vaticano il che significa che lui aveva un repertorio di cartoni che non gettava via come materiale non più utilizzabile ma che in qualche maniera riutilizzava nel momento in cui era necessario soltanto così si riesce a capire come in quei pochi anni dei primi decenni del del sedicesimo secolo abbia potuto fare tante cose passando da Villa Farnesina al 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 Vaticano e essendo soprattutto innamorato e su questo sono perfettamente d'accordo con Alessandro essendo innamorato dell'architettura Vitruvio in quel momento era la sua ossessione lo stava facendo tradurre in italiano non sapendo il latino e diventava proprio per lui una linea di di percorso molto molto importante poi alla fine vorrei forse anche il blu egizio prende da Vitruvio vero Antonio il blu egizio viene descritto da Vitruvio ma c'è un'altra cosa che noi abbiamo messo abbiamo trovato ma questa è una cosa che riguarda gli storici dell'arte e io sono molto rispettoso delle diverse competenze c'è una lettera che Raffaello questo è il condizionio non te l'hai messo metticelo questo sì è che Raffaello manda a un suo amico che aveva visto a Castiglione che aveva visto perché qui in realtà e dice i complimenti che mi fai ma soprattutto i primi dieci anni oppure gli ultimi dieci anni tutti i primi dieci anni se c'è il microfono ha il microfono acceso sì no quello no agli uniformi ma che si mi ha dato da bai e non l'hai preso tu c'è scritto qua Michele bene vai vai Antonio c'è questa lettera in cui dice i complimenti che mi fai mi fanno molto piacere non so se sono meritati ma la mia guida è stata a Vitruvio e quindi parlare nella stessa lettera a distanza di Poguerini della loggia della della Galatea e far riferimento a Vitruvio è un'altra indicazione del fatto che probabilmente quel blu egizio viene sicuramente dall'interesse per Vitruvio d'altra parte non era difficile a Roma anche se in Vitruvio non ci sono le quantità e noi sappiamo come le proporzioni in chimica siano molto importanti ma non era difficile trovare degli ufficiali che fossero in grado di ricoltura in gru egizio quindi questa è un'ulteriore indicazione di come fosse legato a Vitruvio stesso e per il fatto di essere grandemente un architetto sì poi aggiungo soltanto che i disegni di Raffaello erano già collezionati quando l'era in vita e anzi li spediva lui agli amici per esempio a Domenico Alfani a Perugia ma soprattutto a Albert Durer e anche i cartoni venivano collezionati tanto che i cartoni per gli arazzi della Sistina che lui fa tra il 1513 e il 1516 per il nuovo papa che era Leone X i arazzi vengono tessuti direttamente sul cartone quindi quelli si rovinano nel caso di Raffaello li hanno conservati perché erano considerati opere d'arte a sé anche i cartoni e adesso ce l'hanno tutti a Londra cioè sono di proprietà della regina d'Inghilterra ma sono esposte al Pietro Albert Museum quindi insomma già a quel tempo lo studio anche sulla carta che faceva Raffaello era collezionata come un'opera d'arte ti ho fatto uno scherzo Ale no questa infatti non la so io che cos'è ti ho fatto uno scherzo chi è questo pittore secondo te ah non ne ho più palli l'idea sai Antonio tu lo sai probabilmente sì ma lascio però eh anch'io cioè non lo so però dicelo tu poi diciamo se ci avevo preso ma guardate quello che c'è scritto a dieci anni sapeva dipingere come Raffaello però ha necessato di una vita per apprendere a dipingere come un bambino stupendo se faccio vedere questo ah ecco e infatti immaginavo che fosse lui mi sembrava di averlo visto a Barcellona al museo Picasso sì sì a quel Picasso Scienze e Carità l'ho messo proprio perché è incredibile il collegamento questa frase che lui scrive in cui dice guarda che a dieci anni a dodici anni io sapevo già dipingere come Raffaello che dipinge questo è una delle sue prime opere no ma è bellissimo intanto guardate l'immagine del medico la rigorosità no lo scienza il medico consideriamo che la medicina era era la scienza null'altro era scienza tutto sommato a parte soprattutto in questo in questo periodo guardate la cura guardate il malato e diciamo la suora che che dà il malato ebbene tutto uno immaginerebbe che questo sia invece il prodotto da da Picasso e Picasso è incredibile perché vive sicuramente sicuramente legge forse non non Einstein direttamente ma legge tanti fisici legge tanti matematici sicuramente conosce Poincaré e uno dei temi che lui tocca è esattamente quello delle quattro dimensioni noi siamo abituati a guardare le cose in tre dimensioni in realtà con la teoria della relatività e con Einstein arriva questa fantastica quarta dimensione che potrebbe essere il tempo che lui cerca di raffigurare e che lui dice altri affermano che la quarta dimensione lui non è un definitivo non è uno che dice esattamente che cosa è che cosa non è ma riporta e prova a rappresentare no le quattro mademoiselle sono una rappresentazione della della quarta dimensione una direzione dello spazio del tutto diverso dal tempo oppure il tempo vi sono in effetti tante dimensioni tante dimensioni superiori ma allora si da morire perché in effetti al di là delle battute insomma Picasso è un figlio del suo tempo e quei dipinti all'inizio sembra di vedere Goya e sembra di vedere Cézanne in sostanza no cioè quella materialisticità dei colori post impressionista dentro una tradizione che è quella spagnola e allora quell'espressività così marcata che era tipica tipica di Goya d'altronde anche Manet insomma vede Goya per fare la pittura impressionista che conosciamo e quindi proprio figlio del suo tempo ed è proprio Cézanne proprio il colore di Cézanne che quando fa le bagnanti nel 15 che vengono poi riproposte scusate nel 14 che vengono riproposte per esempio anche da Giorgio Morandi nel 15 e che vengono riprese da 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 Picasso nelle Madame capisce capisce che lì bisogna fare uno scatto capisce che bisogna andare avanti e allora mette abbandona il colore abbandona la materia e mette la matematica e mette la quarta dimensione della matematica che non è la metafisica di Chirico non è la matematica scientifica che abbiamo visto fino adesso ma è una quarta dimensione che squaderna su una bidimensionalità e questa è la sua la sua grandezza il cubismo che cos'è è quello di far vedere tutte le sfaccettature della materia dentro una dimensione che è fatta a base per l'altezza a due dimensioni il Guernica per esempio c'è anche il tempo perché è l'istantaneità del tempo e lo sconquassamento della dimensione spazio-temporale e effettivamente questo senza la giuria della relatività credo che non sia stato possibile vado rapidamente alla alla fine beh questo diciamo è un po' una scoperta dell'ultimo periodo c'è una bellissima mostra per me intendo chiaramente e c'è una bellissima mostra a Roma di 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 Klimt dove fra l'altro con mezzi audiovisivi fanno vedere tre dipinti che purtroppo non ci sono più che sono appunto medicina filosofia e giurisprudenza che indicano un legame abbastanza forte fra fra Klimt e e la scienza dipinti che furono criticati che furono no ostacolati osteggiati che venne chiesto di rimuovere perché a un certo punto Klimt stesso chiede al non so se fosse il rettore o il presidente che gli aveva commissionati Klimt chiese di poter restituire i soldi che aveva avuto per dipingerli e di riavere indietro e di riavere indietro i dipinti questa è medicina beh medicina sembra in realtà ecco fu criticato perché tutti dissero che si guardava molto alla cura in questo dipinto ma poco alla prevenzione e poco alla guarigione che sono invece due diciamo due aspetti fondamentali del medico ci sono degli elementi caratteristici di Klimt è una personalità assolutamente particolare ma molto apprezzata all'epoca e che indica in medicina una scienza assolutamente filosofica e poi questo questo altro dipinto che in realtà è filosofia e che è stato diciamo è stato il più osteggiato perché c'erano questi nudi che non potevano essere rappresentati all'interno di una di una università e la sua meravigliosa donna d'oro The Golden Woman è stato di recente un bellissimo film io ho apprezzato tanto i contenuti di questo film che è stato presentato in televisione in una di queste serate bene c'è di bello all'interno di di Klimt questa questa frase di Marsilio da Padova che nessuno può scoprire da solo la maggior parte delle arti pratiche di pensiero ossia speculative poiché ciò non si si realizza se non con l'aiuto di chi viene prima e chi viene dopo questa frase a me ha colpito particolarmente soprattutto perché indica in maniera chiara che tutto ciò che c'è stato prima influenza chi viene dopo Klimt è figlio del suo tempo come Van Gogh è figlio del suo tempo come Caravaggio è figlio del suo tempo ma tutti subiscono l'influenza di chi è venuto prima e ci verrà dopo sicuramente subire l'influenza di chi ti è stato prima e beh con questa chiusura a te la chiusura Ale e con questo si spiega la storia dell'arte essenzialmente ora Klimt è uno che è stato a scuola ha fatto la scuola degli arti dei mestieri si chiamava la crusche verbe cioè la scuola delle arti applicate essenzialmente e nei suoi dipinti si capisce questa matericità che lui mette l'oro che lui prende dai dipinti antichi qualcuno pensa agli dipinti italiani qualcuno pensa anche da qualche dipinto umbro tipo Matteo D'Aguardo ma chissà se è vero non credo ma comunque prende insomma dei fondi oro dei dipinti antichi lui lo mette perché ha capito che quella era l'arte tecnica e infatti lo scrive le arti pratiche e di pensiero o sia speculative cioè l'arte non è un pensiero di speculazione l'arte è prendere il pennello con le mani e fare qualcosa di concreto e questo si vede benissimo nella sua produzione e anche nella sua ricerca e si spiega così proprio la storia dell'arte che è una disciplina che vuole studiare la storia dello stile e la storia delle forme ma anche la storia delle funzioni allora senza sapere quello che c'è stato prima non è possibile sapere né quello che c'è che stiamo studiando in quel momento né tantomeno dove andrà cioè c'è un libro stupendo che si chiama La forma del tempo di George Kubler che è insomma uno studioso di arte precolombiana che nell'introduzione lui dice che l'arte è come una pianta c'è il tronco il fusto che cresce man mano poi ogni tanto c'è un ramo che parte e che magari diventa un ramo secco o come magari diventa un fiore bellissimo che lì finisce Piero della Francesca è un fiore bellissimo che però in sostanza finisce lì ecco Raffaello è al centro del tronco ma se noi non conosciamo quello che c'è prima e quello che c'è dopo la nostra disciplina non può andare avanti non può andare da nessuna parte e poi mi piacerebbe concludere questo questo momento perché in tutto quello che abbiamo detto la scienza la tecnica che insomma è una nuova frontiera della storia dell'arte anche per me insomma mi piace moltissimo lavorare con il rettore proprio per questo per questo motivo ma tutto dipende dal contesto abbiamo visto come Caravaggio a Malta fa un dipinto perché doveva essere visto nella chiesa in quella posizione così come San Matteo e la Cappella Contarelli era fatta in quella posizione ma Giotto capirai Giotto a Padova per lo stesso modo la Cappella Sistina era stata costrufatta perché si doveva vedere in quel momento lì allora il contesto è fondamentale e cioè l'opera d'arte noi siamo abituati a vederla dentro un museo con il suo faretto e ci bevamo della bellezza in realtà c'è una funzione che quella opera d'arte deve assolvere nel novecento è anche una funzione estetica ma prima no prima era una funzione pratica e allora capire quella funzione vuol dire capire anche la storia la filosofia e la scienza di quel momento e credo che insomma arte e scienza proprio quando uno va a contestualizzare le funzioni delle opere vanno a braccetto e sono molto molto più vicine di quelle che noi pensiamo è vero è vero Ale quello che tu hai detto adesso a me ha fatto pensare a qualcos'altro di estremamente importante oggi noi godiamo di qualcosa che è stato fatto da chi c'è stato prima e allora la frase di Marsilio forse è un po' precursore della frase di Einstein che diceva che cento volte al giorno lui ricordava a se stesso che la vita la sua vita interiore e esteriore era basata sulla fatica di altri uomini ma certo è che ognuno di noi doveva fare il massimo sforzo per dare nella stessa misura almeno quello che aveva ricevuto ecco io credo che questi artisti avevano probabilmente ricevuto molto ma poi sono stati in grado grazie alla loro arte grazie alla loro capacità grazie alla loro attività di lasciare molto e di far sì che oggi ognuno di noi continui a ricevere forse il nostro scopo deve essere questo di lavorare perché poi qualcuno possa avere da noi come noi abbiamo avuto da chi ci ha preceduto mi fa venire in mente un'ultima cosa Claudio in questo contesto in questo consesso va detta ci riempiamo la bocca che la bellezza ci salverà non è vero non è assolutamente vero che la bellezza ci salverà la bellezza in sostanza non esiste come entità gli artisti studiavano quello che c'era stato prima gli scienziati come Einstein studiavano quello che c'era stava prima io e Claudio per fare queste cose dobbiamo studiare allora che cos'è che ci salverà la conoscenza e lo studio e che un'università parli agli insegnanti su questo credo che sia l'ospicio migliore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti